Alessio! Alessio! Vai, cammina senza fretta. Tu come ti chiamo? Aloisio. Aloisio, dammi una sigaretta. Stai attento che l'avete un posto di blocco, vai piano, hai capito? Normale, non correre. E tu sorridi e benedici. Benedici sempre, hai capito? Lui hai visto? Era l'arcipescovo Aloisio. E da dove viene? Siamo passati? Sì. Appena siamo fuori città buttati sull'autostrada. Entro stasera dobbiamo stare in Svizzera. Cambiamo questo in valuta pregiata e domani torniamo a Napoli. Cerca di evitare il traffico e chiudiamo le tendine, che è meglio. Chiudi a lui. Ma sei sicuro che ti sei messo tutto? Mi sembri un poco sguarnito. Questo è l'abito. Avevo chiesto un cardinale grassi e tu con questa faccia, figlio mio. Ma dove t'hanno presa a te? All'arcipescovado. E' venuta una donna devota, la chiamano mamma assunta. ci ha detto di tutti i rischi che hai corso per recuperare il tesoro. Ti ringrazio, figliolo. Tuttù è, tuttù è, Tuttù è, Tuttù è, so. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.